Giovedì 25 maggio ci troviamo a Roma per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore il tema delle giornate legato alle prestazioni energetiche, sistemi di certificazione normative oltre 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione tante le aziende che hanno anche raccontato le novità presenti oggi sul mercato allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato Oggi si parla al convegno di efficienza energetica degli edifici ma volevo un attimo parlare perché questo argomento non può essere estrapolato dal contesto dalla visione del discorso più globale di problemi ecologici e la gestione di energia a livello globale, urbanistico e non solo a livello di singolo edificio Noi la seconda volta che partecipiamo ai workshop di infoprogetto è sempre molto interessante incontrare architetti, ingegneri, geometri, comunque professionisti del settore e potergli dimostrare i nostri prodotti e quindi fargli conoscere la nostra azienda e di cosa ci occupiamo Intanto ci permettono di raggiungere contestualmente una multitudine di professionisti ma soprattutto nel momento del mondo generalizzato dal web dove le informazioni singole arrivano direttamente al professionista, forse non completamente codificate ci permettono di mettere a punto ordine a questa informazione dandogli una capacità di essere filtrate e di essere applicate nella maniera corretta Il contatto con i progettisti è sempre un incontro importante specialmente con un'azienda come la nostra che guarda parecchio all'innovazione e al rispetto dell'ambiente Questa non è la prima che noi facciamo, abbiamo aderito a tutta una serie di episodi del genere vanno molto molto bene, c'è sempre molto interesse crediamo sia interessante e intelligente giungere al progettista che poi ci preveda nel computo di un progetto Vedo tanta gente, tanto interesse, vedo progettisti di tutta l'età che è una cosa anch'essa molto interessante, si ha un po' il contatto con tutte le generazioni quindi si va dal progettista molto esperto al ragazzo giovane che ha comunque interesse per tutto questo aspetto legato a normative e prestazioni energetiche Grazie a tutti